adesso invece vi raccontiamo una cosa che esce domani, arriva domani, siamo leggermente in anteprima si tratta della seconda stagione di tutto chiede salvezza, tutto chiede salvezza serie che trovate su netflix tratta almeno nella prima stagione dal libro di daniele mencarelli, daniele mencarelli che fa parte della squadra di sceneggiatori, quindi insomma rimane anche in questa seconda stagione nella scrittura di questa serie, la serie che ha come protagonisti Federico Cesari e Fotini Peluso che tornano ovviamente essendo i protagonisti ma ci sono delle aggiunte assolutamente interessanti in questa seconda stagione, seguiamo le vicende di Federico Cesari appunto il protagonista che da diciamo paziente che nella prima stagione aveva subito un TSO per cui è stato una settimana e diciamo le puntate li calcavano appunto questi giorni di Daniele si chiama, ti ho un vuoto? sì, di Daniele all'interno dell'unità diciamo di salute mentale, ora non mi ricordo bene la definizione precisa SPDC, Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura e appunto conosceva le persone che erano con lui e c'erano insomma le varie storie personali degli altri pazienti che tornano in parte anche nella nuova stagione, le cose si sono evolute perché in questa seconda stagione Daniele è diventato infermiere nello stesso reparto che l'aveva visto paziente quindi c'è questo cambio di prospettiva, Daniele è ben lontano da risolvere, dall'aver risolto i suoi problemi di salute mentale però nel frattempo è diventato un, sta studiando, sta diventando appunto un infermiere sapevamo già dalla prima, dal finale diciamo della prima stagione che la sua storia con Fotini e Peluso si era evoluta con il personaggio, con Nina, Nina Marinelli personaggio di Fotini e Peluso si era evoluta e c'è una bambina, quindi lui è padre e infermiere gli spoiler, che non sono spoiler, sono nel trailer se vedi il trailer c'è già tutto finiscono qui possiamo solo dire che ci sono delle new entry a livello attoriale molto interessanti prima fra tutti Drusilla Foer, ma non solo c'è Valentina Romani, che è il motivo per cui prima ho fatto perché mi sono resa conto che stava in mare fuori e ora ho capito dove l'avevo già vista, che continuavo come al solito io ormai guardo le cose e dicendo, ma io questo l'ho già visto ma questa chi è? Ma la conosco ma assomiglia tantissimo questo è il mio modo di vedere, come gli anziani quindi c'è Valentina Romani, che a me francamente non mi fa impazzire la trovo un po'... non sei un casting director, quindi... no, non hai capito, l'ho vista recitare in questa serie in questa serie non mi fa impazzire ma torna anche uno dei miei preferiti di sempre Lorenzo Renzi che fa Giorgio che è uno dei personaggi... sì, anche lui è stato assunto dalla cooperativa sociale esatto, lui è diventato il giardiniere della cooperativa basta, basta con gli insight però appunto sempre rimanendo dentro sul personaggio di Valentina Romani che appunto non vi possiamo svelare chi è esattamente anche perché appunto è bello scoprire ora racconteremo anche le dinamiche anche il ritmo di questa serie e Valentina Romani è anche in Scam, per esempio no, aspetta sì, è anche in Rex 8, se vuoi proprio va beh, Rex adesso non lo vedevo da un po' però... ha partecipato a tre episodi di Scam Italia ma la cosa divertente è che Valentina Romani aveva una scena molto particolare nell'ultimo film di Nanni Moretti Il Sol dell'Avvenire dove Nanni si confidava con lei dicendo ma come non usi la crema per... non hai la crema per il viso non hai il calmanti e quindi c'è un discorso di appunto sostanze calmanti lì e qui ed è divertente che se è stato voluto c'è un rimando tra i due una citazione forse volontaria forse involontaria sicuramente una cosa che posso appunto essendo ormai diventato un mio amico di penna Francesco Bruni in questa stagione fa più o meno o meglio questa stagione fa quello che più o meno fa il protagonista di cosa sarà film del 2020 interpretato da Kim Rossi Stewart film 2020 di Francesco Bruni nella locandina ovvero la storia di tutto chiede salvezza prende e va su un crinale molto molto sottile molto molto pericoloso e va verso una nuova direzione sì diciamo che come anche ha dichiarato Daniele Mancarelli era un sequel necessario nel senso che per come avevano impostato la prima stagione aveva senso proseguire anche se io personalmente ho amato talmente tanto il libro che ho un po' di difficoltà a vedere la storia sapete a volte uno legge i libri e dice ah vorrei tanto capire come vanno avanti i personaggi in altri casi invece no non lo vorresti sapere evidente forse ha ragione Mancarelli che dice affrontare solo il TSO sarebbe stato riduttivo chi passa attraverso quel percorso ha poi una vita al di fuori che meritava di essere esplorata e questo è sicuramente un argomento importante e interessante ho trovato forse in questa seconda stagione a parte un po' di fictionismo Rai però questo è un problema mio di estetica non lo so l'ho trovata un po' più patinata un po' più seduta rispetto più seduta? seduta non so se seduta ha un senso cioè un po' più pigra rispetto alla prima stagione e forse anche un po' tanti argomenti insieme cioè tanti spunti di riflessione per carità tutti interessanti e tutti su argomenti importanti però avevo un po' la sensazione che stessero rincorrendo il topic importante allora c'è il topic salute mentale il topic immigrazione occhio agli spoiler non sto dicendo spoiler sto parlando delle riflessioni topic immigrazione topic paternità topic famiglia c'è troppo? too much? è vero che sono tutte cose importanti ma forse il rischio c'è da dire che nella prima stagione ogni episodio aveva un criterio erano sette episodi nella prima stagione come sette erano i giorni che passavano qui sono cinque sono cinque per un motivo che non vi diciamo però appunto già la differenza tra sette e cinque è una differenza piuttosto strutturale il tempo è letteralmente di meno anche per raccontare delle storie ma la lunghezza della stagione non sempre mi permetto di mettere una pulce nell'orecchio ma anche l'ombra del dubbio non sempre è definita da chi scrive o meglio sì l'idea può essere di dare una scansione temporale simile a quella che patiscono cioè tu dici qualcuno gli ha dato meno soldi o meno tempo è possibile è una seconda stagione è appena uscita la notizia che Prisma non avrà una terza stagione e Prisma diciamo che ha anche un'importanza una vicinanza anche una vicinanza al nostro cuore è una serie molto amata a livello di rappresentazione è proprio importante sono sia Prisma che Tutto chiede salvezza racconta fanno delle fotografie molto vicine alla realtà tra l'altro mi permetto seguendo il lavoro di Bruni sembra che appunto Francesco Bruni sia una delle poche persone una delle poche voci del panorama italiano leggo perché me lo sono segnato che non tema di confrontarsi con le generazioni più giovani anche a costo di doverle studiare o magari condividere con loro dolori e fallimenti ma anche le passioni e questo è un è un battito che è arrivato a tutti i suoi racconti e Francesco Bruni sicuramente non è soltanto un validissimo regista appunto io non non vedo un brutto film nella sua carriera da regista ma se scorrete l'elenco di lavori su soggetto o solo su o su sceneggiatura oltre va bene la collaborazione con Paolo Virzi e qua mettiamo una pausa drammatica ma ci sono dei racconti anche delle produzioni appunto Rai quindi il suo linguaggio lui lo sa gestire in diversa maniera senza dubbio però ciò che appunto la definizione di serie seduta mi piace moltissimo perché tu puoi stare seduto per tua volontà o puoi essere messo a sedere esatto cioè un po' come beh questo non lo possiamo sapere avrei voluto chiederlo a lui ho chiesto interviste a Netflix Netflix ha fatto una campagna promozionale per questa stagione diversa dal solito la prima era molto più più sicura mettiamola così per questa stagione non lo so beh diciamo che c'era un Federico Cesari in splendore da scam che era il nuovo volto del cinema italiano sembrava capito quando c'è stata la prima stagione perché è bravo a me piace Federico Cesari però a volte questi qua li caricano di un valore una responsabilità anche verso se stessi non a caso il personaggio di Nina un po' racconta questo cioè il fatto degli attori che vengono investiti di aspettative in una maniera quasi imbarazzante mentre stavolta va così cioè è già vecchio già l'abbiamo visto voglio dire non funziona così è divertente anche il racconto tra quello che è successo tra una stagione e l'altra anche quello che è risuonato nelle persone che hanno visto tutto che è Salvezza 1 e per esempio Federico Cesari nel mentre si è laureata veramente in medicina credo anche qualcun altro di scam si è laureato nel processo comunque no una cosa che secondo me è interessante e va diciamo data come merito alle stagioni di questa serie sia la prima che la seconda è il modo in cui viene trattata il disagio mentale i problemi di salute mentale i problemi psichici perché in effetti riescono a non essere mai macchiettistici secondo me questo poi è molto dato alla grandissima qualità degli attori cioè che è una roba proprio sproporzionata nel senso che forse in questa serie sembra quasi troppo cioè nel senso tanto più bravi gli attori a volte sembra che siano un po' spaisati rispetto forse come dici tu il tempo cioè il fatto di non avere tempo di esprimere tutta la propria la propria capacità molto tempo viene dato per esempio a Drusilla Fuere molto brava però ecco non è niente cioè non c'è mai nulla che ti faccia sembrare la caricatura del matto ora lo dico male lo dico male perché può essere una cosa macchiettistica invece secondo me loro hanno fatto uno studio molto grande e credo che sia questo vada sicuramente dato è un'altra mi permetto di fare un altro collegamento tra Prisma e tutto chiede salvezza c'è tanto studio dietro non c'è una fretta nell'andare sul set magari forse in questa seconda stagione sì chissà non è dato saperlo ma soprattutto prima c'è sicuramente uno studio gli attori hanno veramente tanto tanta bibbia mi permetto di usare un termine tecnico la bibbia è tutto ciò che viene dato all'attore che non per forza deve essere messo in scena cioè ritorno a citare una cosa che si sa di David Lynch che fa addirittura l'oroscopo dei suoi personaggi magari il personaggio è anche una comparsa ha due battute ma si sa all'attore che viene che deve interpretarlo David Lynch spiega racconta e consegna un volumetto dove c'è scritto tutto quello che è il suo personaggio anche l'oroscopo anche il suo segno zodiacale qui sicuramente sul set si è arrivato e si è tornati anche in una dimensione molto familiare questa familiarità arriva anche dalla seconda stagione arriva anche a noi spettatori e spettatrici il risultato però è appunto molto molto increscendo ecco le prime due puntate sono sicuramente inferiore alle ultime tre puntate sicuramente non è una stagione da binge watching perché ti scivola via e resta poco tra le mani dovresti appunto anche tornando a una dimensione vetusta dividere o comunque far uscire una puntata ogni settimana magari appunto Netflix non lo farà mai perché appunto è la piattaforma del binge watching però probabilmente per onorare anche il lavoro di tutte quelle persone che hanno partecipato alla seconda stagione ma anche dare il permesso a tutte le sensazioni le emozioni che ogni puntata a volte anche ti butta addosso con neanche troppa gentilezza farle un po' decantare sarebbe stato interessante però appunto si può fare si può fare lo potete fare basta che spegnete e ho comunque di te vai alla seconda puntata no aspetta piano piano calma calma cos'altro aggiungere io mi fermerei qua perché sennò rischiamo di rovinare la visione se avete voglia di recuperare questa serie ovviamente dalla prima stagione sempre su Netflix potete vedere entrambe da domani trovate la seconda stagione la stagione sia la prima la musica non male non male c'è Danila Pess eh c'è Danila Pess quando ho visto anzi ho sentito il Carmen se non sbaglio partire in un momento anche piuttosto importante mi si sono illuminati gli occhi già piuttosto luminosi anzi luccicanti un po' anche da da piantino però l'abbiamo passata la settimana scorsa non si può facciamo uno strappo alla regola ma questa è una regola che ti sei dato tu non ho capito bene in base a cosa per cui fai come vuoi però nella puntata precedente anzi due puntate prima c'era un amico del programma non sono gli eli sembra tantissimo l'enfer strome dalla colonna sonora di tutto chiede salvezza due a Grazie a tutti.